In sintesi, i primi commenti la dicono tutta, per il 90% si tratta di tasse, il piatto forte sia per l'impatto popolare che per il gettito e l'arrivo della Superimu, costituita dal ritorno dell'ICI sulla prima casa e dall'aumento delle basi imponibili, circa 5 miliardi vengono dall'aumento della benzina, mentre due arriveranno dall'addizionale IRPEF regionale e tre, se non si taglieranno le agevolazioni, ma anche in questo caso si tratterebbe di un aumento della pressione fiscale, dall'incremento dell'IVA. L'altro pilastro è la riforma delle pensioni, con l'abolizione di fatto dell'anzianità e la soglia fissa di 41-42 anni, al di sotto della quale non si potrà più uscire. Peserà, come dicono gli esperti, il blocco delle indicizzazioni, il prossimo anno dalle pensioni che stanno sopra i 1.400 euro si spremeranno circa 2 miliardi. intorno al tema delle tasse gira anche la lotta all'evasione fiscale e la mini patrimoniale. Per la lotta all'evasione fiscale, oltre alla misura che impedisce l'uso del contante sopra i 1.000 euro, c'è la novità della Costituzione, della grande banca dati del fisco, alla quale con le nuove norme gli istituti di credito dovranno riversare i movimenti quotidiani tutti i correntisti. Restano al palo, come detto ripetutamente, le liberalizzazioni, parliamo di taxi, farmacie, servizi pubblici locali che saranno recuperate nella cosiddetta fase 2 di cui vi parlavo poc'anzi, insieme ad un'altra serie di misure che in qualche modo poi dovranno portarci a quella crescita che al momento non si intravede, ma ci rassicurano. È una fase che arriverà, di cui si comincerà evidentemente a parlare dopo Natale e allora che dire per cominciare questo nostro appuntamento oggi. Prendiamoci tutti questi tre giorni di pausa, di riflessione e poi ripartiamo subito dopo Natale, magari ad inizio anno, da un punto che per tutti deve essere fermo, che è quello della crescita.